Ciao a tutti ragazzi sono Marco, come state? Spero tutto bene Benvenuti al sessantesimo episodio di The Sims 4 In questo episodio ragazzi cominceremo la carriera di Jake Ha il suo primo giorno di lavoro Quindi vediamo un po' come andranno le cose Come si troverà, se è il suo lavoro, se è quello giusto per lui E insomma andremo avanti Poi stasera vorrei anche uscire un po' con i suoi amici Specialmente magari con Abby ed Evan che abbiamo appena conosciuto Che mi sembrano molto molto in feeling diciamo con Jake Insomma si trovano molto bene insieme in amicizia Allora sono nella modalità costruisci ragazzi Perché vi devo mostrare cosa è stato aggiunto con lo scorso aggiornamento Che è stato pochi giorni fa Hanno aggiunto un tratto dei lotti Ovvero ritrovo per adolescenti Altri adolescenti frequenteranno questo posto, questo lotto Li vedrai vagare per il quartiere come è tipico degli adolescenti Esatto, non lo vedremo adesso perché questi sono i tratti giusti per Jake penso Però non è detto che non li vedremo in futuro Anzi Allora, quindi adesso possiamo uscire dalla modalità costruisci Anche perché tra l'altro penso che questo lotto Poi non so se sarà proprio così Cioè questo tratto dei lotti Penso che lo aggiungeranno per il lotto del bullying Che aggiungeranno alla nostra biblioteca Quando acquisteremo il game pack Il game pack, lo staff pack Serata bullying E tra poco uscirà mercoledì Sono molto molto curioso Andiamo Già dal trailer comunque mi piace molto Adesso appena andato in bagno Jake si è appena svegliato E deve fare una cosa Prima che inizi Il lavoro insomma Tra poco, tra circa un'ora anche di meno 40 minuti circa Inizierà e dobbiamo prima rispondere Alla posta Esatto, questo pensavo che fosse proprio l'incarico del giorno Ma invece no, è proprio come se fosse una Non saprei sinceramente Perché ho scoperto che scompare quando parte l'orario di lavoro Quindi non saprei bene cosa sia di preciso Ah beh, adesso diciamo che possiamo rispondere alla posta Vediamo un po' Uso un computer per rispondere alla posta Però ho visto che si può anche dal telefono Ah sì ragazzi, come avete visto Hanno sistemato il bug dei telefoni Adesso le cover Si mettono al posto giusto Uh, 188 simole E abbiamo completato anche questa parte di incarico Abbiamo tutto a posto Vediamo se hai qualcosa da fare Ma no Tra poco dovresti iniziare a lavorare Ma qua si è spenta? Ah, ok Come le luci normali Se andiamo qua Si accende Uh, vediamo qua Commento positivo Per aver risposto alla posta Fa sempre piacere sentirsi apprezzati Ah, ok Quindi ti hanno scritto un bel messaggio Sulla posta Elettronica Bene Casa dolce casa Perché è residente Jake Se non sbaglio adesso Concentrati Ehm, aspettate Usa interazioni buffe Uh, possiamo andare a Cioè dobbiamo fare interazioni buffe Qua c'è il postino No, credo che fosse un vostro sim Allora direi di scendere sotto casa Ragazzi qua E vedere se c'è qualche vostro sim Magari stoppiamo un attimo Perché il tempo vola Ah, qua c'è Luke Ehm, vediamo se c'è qualcun altro Che magari non abbiamo ancora conosciuto Di vostri sim Più che altro Ehm, non vedo nessuno Quindi magari andiamo dal Luke E lui si Ma perché stai correndo senza Senza scarpe? Mi sa che ha il suo abito sportivo Vabbè Ehm, cos'è che dobbiamo fare? Non mi ricordo già più Interazioni buffe con 5 sim diversi Ah, quindi No Una con lui e poi dobbiamo andare da Qualcun altro a caso Ok, Jackie Vieni subito qua Dopodiché Dobbiamo concentrarci Eseguendo interazioni Che impegnano le energie mentali Dei tuoi sim Per esempio esplorando Oh, no, 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 no No, sono sceso però Magari fai un'interazione buffa con lui E poi torna in casa A fare questo Esplorando simpedia Giocando a scacchi O chiedendo dei misteri scientifici Al cubo del futuro Mmm, vediamo questo quanto costa Non saprei ma sarebbe interessante provarlo Cubo del futuro Del futuro dove sei? Eccolo qua Della previsione pietose Ehm, no Costa troppo ragazzi No Cos'è che potevamo anche fare? Esplorare simpedia? Vediamo se ce la facciamo Se lo troviamo Sarà in internet immagino Esplora simpedia Impara modi per concentrare la mente Quindi quando hai finito Hai raccontato la buzzleta? No, tra poco No Ma perché? Perché la mia vita è così? Accetta di allenarti Cioè Boh Forse Sì perché lui era il Aspettate Fai una barzelletta Toc toc È l'allenatore Quindi possiamo chiedere Di allenarci Bello Facciamo questa barzelletta Eh no Non la contate infatti Perché non l'ha fatta Fatta una Adesso torniamo a casa Un attimo Anzi C'entra la casa Un attimo Da qua E andiamo sul computer ancora E Facciamo questa cosa Com simpedia Cos'era? Esplora Semplicemente Concentriamoci un po' Ehm Penso che poi ne usciranno di altri O forse sono quelli solo Di questa giornata di lavoro Non saprei ragazzi Comunque abbiamo il turno Fino alle 15 No basta chiacchierare Jake Corri 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 Devi farlo con 5 sim diversi Quindi no Non perdere tempo Sì corriamo a casa ragazzi Alla velocità della luce Sì siamo qua Arrivati Ecco qua Il nostro computer È molto molto scarso Ma va benissimo Per il momento Vediamo se riesce A diventare concentrato Jake E là Qualcuno ha voglia Di fare un po' di movimento Perché sono qui A dare la carica Eh in effetti Ho visto che Era in tenuta Tra virgolette Sportiva Vorrebbe entrare Uh aspettate un attimo qua Sì siamo diventati Concentrati Guardate qua Dati avvincenti Per aver letto Simpedia La simpedia Ok Simpedia è ricco di informazioni utili Inutili e bizzarre Per re Che rendono ansiosi Di imparare Sì comunque Siamo diventati appunto Concentrati Eh non so Sarei Starei lavorando Look No non posso farmi allenare Rifiutati un attimo Sto lavorando Ma scusa Basta Basta esplorare Simpedia Poi andiamo a Fare interazioni buffe Con altri sim Con Alice Parla del più Del meno No Facciamo una Imitazione Sempre se Non se ne sta andando a casa No sta prendendola a posto Magari facciamo in tempo Forza Jake Corri A dire a Luke Che non possiamo Al momento Allenarci E non ne hai neanche bisogno Per il momento Ok Senti adesso Luke Non posso Allenarmi Cioè devo andare Sto lavorando C'è anche lui Potremmo farlo con lui Tanto il nostro vicino Però dobbiamo anche presentarci Una divertente Dai No Perché si annullano Misteri di The Sims Falla questa Benedetta Interazione Anche lui Sì Sì abbiamo una relazione Un po' così e così Una barzelletta Sui marziani E poi vattene da lei Vediamo se riusciamo A migliorare un po' La relazione con lui Perché Non stiamo andando Molto bene Sai Ok ne abbiamo fatte tre Ma dobbiamo farle con cinque Quindi adesso andiamo Da questo qua Ray Razoya Divertente Presentati Jake Abbiamo ancora Un po' di ore Dai presentati Che poi facciamo Questa interazione Ehi Ma perché buttano La spazzatura in giro Però adesso sto lavorando Magari la raccolgo dopo Forza Jake Barzellata sulle scimmie Fra i sim Gli affiliati sono al massimo Della felicità Quando sono circondati Da molti sim Per essere In un gruppo sociale Con almeno tre sim Bello Manca un'interazione sociale Buffa Con un altro sim La spazzatura La tiriamo su dopo Torniamo di sotto Sì a me piacciono molto Queste carriere attive Infatti Infatti chi lo sa Magari presto Cominceremo anche A scoprire le carriere Attive totalmente Di al lavoro Qua c'è anche la statua vivente Ci sono un sacco di sim Potrei farla con lei Ma sta lavorando Gemma Lupe Se si pronuncia così Uno un po' vicino Signorina lei Sara Dobbiamo presentarci Vabbè pazienza Potremmo anche con lui Anzi Perché è un amico di Andrea Quindi perché no La sta guardando Quindi potevamo Unirci A guardare La statua insieme a lui La statua vivente Basta fare conversazioni Di gruppo Jake E andiamo Dal tipo Paolo Sì Siamo in una conversazione Quindi ora Dobbiamo andarcene Forza O viene qua lui Fammi capire Non so se sta venendo qua lui Oppure Perché si Si stoppano Ah c'è anche lei Billy Ah ma se ne è andato Mi sa di sì ragazzi Billy Già la conosciamo Quindi possiamo fare direttamente Una barzelletta Su Sunset Ballet Wallet Ah no ma era qua Cosa sto facendo Ci ha raggiunti Bene Divertente Inizia ad avere fame Però mi sa Ma perché Dove vai È qua Ah ci segue No non ci sta seguendo Perché Cosa stai facendo Jake Dove stai andando Adesso torni indietro Ma perché parli Dal quinto piano Cosa fanno Sissim Stai tornando Cioè fammi capire Stiamo perdendo Un sacco di tempo Jake Ma cosa fai Ma se ne è andato No mi sa che ci sta Seguendo Cioè sta venendo Da noi Esatto Cioè ma per parlare Dovete venire qua di sotto Per strada Cioè Eravate tranquillamente a casa No si è stoppata Ancora ma Che anno Divertente Dai adesso lo prendiamo Se scappi ancora Guai a te Eh si è un po' difficile La visuale Da Invicinanza A Alle strutture Diciamo Ma l'abbiamo fatta Uh si l'abbiamo fatta Ma Perché ci hanno pagato Non l'ho visto neanche Abbiamo completato Tutti gli incarichi Ragazzi Adesso Forse adesso Non dobbiamo far più niente Non saprei ragazzi Vabbè Siccome adesso Non c'è nessun altro In carico Magari Si dovremmo anche Essere giocosi Come umore ideale Però Non è così Importante Credo Magari Innanzitutto Vieni qua A mangiare A pranzare Dato che Sembra Che non hai Più tanto da fare Anzi Tira su questa Cosa qua Si entrano Tutti Tranquillamente E poi Mangiamo In frigo Non abbiamo Niente Esatto Abbiamo ancora Le foto Ragazzi Penso che Le appenderò Quando Quando Completerò Un po' La camera Da letto Oddio Cosa sta succedendo Qua Ma cosa Vabbè Dettagli Possiamo Servire Il brunch Potremmo Potremmo farlo Magari Mangiamo Tutti Assieme Che ne Dite Non so Si dai Poi chiamiamo A tavola Insalata Giardiniere Maccherone Formaggio Si lui Lui sa fare Diverse cose Takus Al tofu Si Dai Così non c'è Problema Se qualcuno È vegetariano Giusto Forse lui è Vegetariano Ragazzi Adesso preparo Da mangiare Tranquillamente Poi se volete Potete mangiare Qua con me Intanto qua C'è qualcuno Che si dà La pazza gioia E se non sbaglio È l'appartamento Dove c'è Luke E Alice Alice è qua Ma chi è che sta facendo Fichi fichi Con tuo marito Dovresti un po' preoccuparti Vicini rumorosi Per la situazione Del vicino Ok Fracasso Eh Eh si È furente Esatto Quindi Ha delle razioni particolari Anche cucinando Forza Ok Dobbiamo mangiare un po' Con tutto questo casino Ma Vabbè Anzi Fai una cosa Non mangiare subito Chiama a tavola Però Tu non prendere più il piatto Ok Non lo prendere Bravo Ora vengono tutti Non lo abbiamo già qua Non abbiamo una vera e propria salata a pranzo Ma Adesso venite a mangiare ragazzi Ho chiamato a tavola Correttamente Spero Stanno venendo a mangiare Non si sa perché Non hanno fame Mi sa Vabbè Io li ho chiamati Magari Magari li richiamiamo dopo Perché Se no Dobbiamo mangiarci Per tanti giorni di seguito Questa Questo stesso piatto Perché abbiamo sette porzioni Ci durano un sacco Sì Mangiamo Stiamo mangiando Questo sta andando Non saremo più concentrati Come vedete Non va più avanti Sono già finiti Sono già finiti gli incarichi E tutto questo è il lavoro Che dovevamo fare Quindi magari Quando abbiamo finito Vediamo cosa possiamo fare Con l'aspirazione Ordina tre volte Ai chioschi di cibo Ah Saperlo prima Potevo andare a mangiare Di sotto Ai chioschi Vabbè Ormai abbiamo preparato Così mangiamo tutti assieme Se li chiamiamo Un'altra volta a tavola Forse Tra poco Tra un'ora Avrà finito Se non sbaglio Quindi Muoviti a mangiare E chiamiamole a tavola Un attimo Dai venite a mangiare ragazzi L'ho preparato per voi Ok Adesso stanno venendo Forse prima non l'ho chiesto correttamente Basta chiedere Prendere porzioni No perché l'hai presa Basta Mettila giù un attimo Basta Parlare Sedetevi pure Non mangiate in piedi Riponi questo Ripulisci questo E poi stai benissimo Quindi tra poco Esatto Alle 15 Ha finito Non prenderemo una promozione Ma Cosa devo farci Non va avanti il rendimento Siccome abbiamo finito tutto Praticamente Oppure Forse non funziona così Il rendimento Con queste carriere Non saprei Sinceramente Intanto Sensazione di felicità I stima allegri Vedono sempre il lato positivo Cos'era Ora devo proprio andare Se se ne stanno andando Magari finiti di mangiare ragazzi Ah è rimasto solo lui Possiamo anche riporre questo Allora Che tra 15 minuti Abbiamo finito Ah no ma sono qua Non li avevo visti Mangiano qua All'aperto Che bello Infatti non vedo l'ora Anche di poter sfruttare Questa zona Qua di balcone Se ne stanno andando Se ne stanno andando Comunque tutti Qua abbiamo finito Tutto ragazzi Tra pochissimi minuti Abbiamo finito Casa dolce casa Bene Abbiamo finito Adesso Giusto Esatto Abbiamo finito Il nostro orario Di lavoro Per oggi Il nostro turno Cominceremo ancora Domani alle 18 Ma non saremo Da Jake Poi adesso Ragazzi Vorrei Uscire fin da subito Stare un po' Tutto il pomeriggio Tanto abbiamo Tanto tempo E poi magari Andare a pranzare In un ristorante Con Evan e Abby Che più Che Aiuto Più che un ristorante È un fast food Non so se si può Definire proprio Ristorante Però Comunque Si va a mangiare E poi la serata Vedremo dov'è altro Passarla Finalmente Questo bug Mi dava molto fastidio E si è risolto Quindi in vita No 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 Volevo invitare A uscire A dire il vero Dov'è Qua Viaggia Si mi avete detto Che posso anche Tranquillamente Cliccare M Lo so ragazzi Però Non so Mi piace Che sia lui A prendere il telefono Non so Queste fisse un po' strane Riguardo alle animazioni No no Nellis Cosa sto facendo Non so se invitare Anche loro Non so Perché Se ne sono andati Tutti adesso È uscito il messaggio Quindi direi di no Evan E Abby Se la trovo Ma Abby Dov'è ragazzi Perché Non la vedo io O cosa Ah eccola Abby Non la vedevo io Bene Andiamo ragazzi Voi state qui Se volete Però non fate nulla Di grave Grazie Non incendiatemi Distruggete la casa Perché potrebbe essere Un gran problema Anche perché Ho un certo Budget Cioè guardate Quanti pochi soldi Che abbiamo Quanti pochi Sì Sì Italiano Perfetto Tutti vengono con te Bene Vorrei andare Non so dove Magari Ai prati Di San Maishuno Di Maishuno Ci siamo andati Una volta E mi sembra bello Passare una giornata Così all'aria aperta Tutti assieme D'altra parte Potremmo anche andare Negli altri scenari Il ristorante L'ho messo A Willow Creek Il fast food Ci sarebbero anche Delle zone Qua A Newcrest Che non abbiamo ancora Visitato Dei lotti Centro benessere Questo Che ha una palestra Lux Lux O Lux Boh Un'altra palestra Ci sono diversi posti Le spa Eccetera Anche i parchi Però Qua non ci siamo andati Dire il vero Potremmo andare qua Ma si Una bella giornata qua Ma non ci siamo andati Sono sicuro No perché non mi ricordo Bene sapete Credo di no Andiamo al parco Di Newcrest E' bello visitare Un po' tutti i posti E vedere E scoprire Il più possibile In questo fantastico gioco Ed eccoci qua ragazzi Siamo arrivati Al parco di Newcrest E ci sono già Tei vostri simmini Anzi solamente La cara Arabella Allora In questo posto Iniziamo un po' Magari a parlare Tutti assieme Rallegra Uh c'è Jane Oh mio dio Ah possiamo riprenderci La chiave Dell'appartamento Poi tra poco Se riusciamo Magari parliamo Anche con Jane Dai Così inizia a conoscere I nostri amici Complimenta anche lei Jane Lei si sta facendo Un bel giro Dopo la scuola Al parco Tranquillamente Appunto E' in corso Un raduno Questo parco E' molto semplice Non c'è neanche Molto da fare Ma noi concentriamoci Tranquillamente Sul chiacchierare Assieme Oppure qua Che ci sono Quattro posti Siediti E chiacchiera qui Tutti assieme Vieni con noi Jane Brava Tutti e quattro C'è questa fontana Gli scacchi Giochi per bambini Il bagno E nient'altro Molto tranquillo Però è molto carino Per socializzare Un po' Abby dove vai? Ah sta andando in bagno Mi sa Oh si sta mattendo A far da mangiare Va bene Intanto parliamo un po' Con Jane Mentre Abby è in bagno E lui prepara Il cibo Sta grigliando Oh c'è anche Pocahontas Disney Non l'abbiamo mai vista Vediamo un po' Qua cosa dobbiamo fare Ah si dovremmo mangiare Chioschi Però stasera vorrei andare Al ristorante Al fast food Si molto tranquillo Carino Gira l'aria Si magari mettili qua No ma vieni a mangiare qua Scusa Siediti E chiacchiera qui Tutti assieme Venite ragazzi Dovrebbero seguirci anche loro Con questa interazione Abby ed Evan Magari Questo mettiamolo qua Che ne dite Ok Evan Vieni qua Evan Siediti qua Non sta mangiando Non sa che vuole finire di mangiare Eh si ragazzi Questi sim sono molto molto carini Vedremo come si sviluppano I rapporti con Jake E con il resto del Del mondo sim Eh si sono tutti qua A chiacchierare Socializzare Bello 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 Abby Vieni qua Perché stai lì Vieni qua Tra noi Rallegra Parliamo anche ad Evan Abby ed Evan Questa è mia sorella Jane Ve la presento Eh si È giusto che Gli amici più stretti Eh si presentino anche al resto della famiglia No Anche se comunque ci conosciamo da poco Hanno già un bellissimo rapporto Poi a breve se riusciamo Jensen sta andando A breve magari Eh vediamo di Eh Dare la chiave pure a lui Oh è romantico Bene È romantico Questo qua non so chi lo mangerà Lo lasciamo qua per tutti Insomma chi vuole Venga pure qua a mangiare C'è cibo in abbondanza Stanno facendo un raduno E giocano a scacchi Bene Dovrebbe esserci anche Gaia Ma non la vedo Se non sbaglio Eh Faceva parte di questo club Evan Ti do subito la chiave Ti va? Ok Cosa ha preso? Ah il piatto Bene Tieni Vieni pure te a casa mia Quando ti pai Mi fido di te Vieni pure quando vuoi Potremo sempre divertirci In compagnia Discuti delle tecniche di fitness Eh si Lui è molto in forma Quindi magari ci da qualche consiglio Eh si È anche vestito molto bene Mi piace il suo stile Un po' street Mi invento i termini C'è anche Bella Bella Vieni qua anche tu Aneddoto divertente Abbiamo fatto un incit Oh C'è Elsa che è un po' triste Vieni qua con noi Bella C'è ancora un'altra mia sorella ragazzi Lei è bella Ve la presento Ok Continuiamo tranquillamente Unisciti a noi Siediti pure Bella Eh si C'è anche Jane Tutti insieme Che bella Una bella giornata così A breve ce ne andiamo Magari alle sette Così magari verso le sette e mezza Mangiamo Non so voi che orario Mangiate normalmente Ma io verso le sette e mezza Eh Jenny Mi sa che se n'è andata Ah no Ecco A chiacchierare con la gente Abby 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 Sì comunque con loro il rapporto è andato molto bene Sta decollando Guardate che grandi amicizie che abbiamo con loro Qua non mangia nessuno Ma vedremo di farlo mangiare Con la forza Se non lo mangiano Uh c'è anche Jennifer No dai Speriamo che lo mangino Prima che diventi avariato Avete sette ore ragazzi Non avete idea di quanto mi piace ragazzi Mi piace un sacco vedere i sim in giro Che passeggiano Ecco qua Pocantas Con i suoi abiti abbastanza eccentrici diciamo Mi piace un sacco È rilassante vedere tutti che si divertono Ok basta E adesso abbiamo fatto amicizia Andiamo Sì il telefono mi piace un sacco di questo giallo Tutti assieme Andiamo al ristorante Al fast food Basta dire ristorante Perché Non so se si possa dire anche ristorante Boh Fatemi sapere ragazzi Non sono esperto in queste cose Ed è a Willow Creek Come ho già detto Tutti vengono con noi Ed è qua L'hamburgeria McHogan Ed è un ristorante Va bene È un ristorante Conferma Ed eccoci qua ragazzi Vedremo poi se Andando avanti con la carriera Diventerà un po' di più difficile Perché praticamente abbiamo finito di lavorare In due secondi Ed eccola qua ragazzi Ve lo faccio vedere anche con i muri Molto semplice così all'aperto È molto carino Ci sono le lampade riscaldanti Oh c'è una vostra sim che lavora Chiedi un tavolo No dai chiediamolo noi Questo È a 4 Siamo in 3 Però va benissimo Ah è già occupato Questo qua nell'angolino C'è anche Molly E questa è una vostra sim Ragazzi Si chiama Carrie Evans La figlia di Di Evans Non mi viene il nome Daniel Sto dimenticando i nomi ragazzi Non è facile Ah c'è anche Gaia Indivisa in uniforme Avrà appena finito di lavorare Povera E si gode una bella Cena al fast food Ma dov'è Evan? Ah è là Che sta usando il telefono È disponibile un tavolo Perché mi sembra Che si siano fermati tutti Perché Forse Senta È libero questo tavolo Ok l'abbiamo preso Lo stiamo prendendo Mi piace un sacco Così semplicissimo All'aperto Carino C'è il Il Lo chef Lei che è la direttrice di sala E il Cavaliere Che non so dove si trova Eccolo qua Esatto Riscaldato L'ambiente Abbiamo preso il tavolo Voi sedetevi ragazzi Venite qua tranquillamente Sediamoci Accomodati Sì ma anche voi ragazzi Sedite insieme Oh mio dio Cosa è successo Cosa è successo Cosa è successo Ragazzi Voi non mi avete neanche Dato il tempo Di creare questo Sime Già me l'avete scoperto Nel primo episodio In cui ve li ho mostrati Cosa ha fatto Evans Ha fatto qualcosa Di molto particolare Iniziamo un po' a parlare Me l'avete già L'avete già scoperto Per una piccola cosa Un piccolo dettaglio Nello scorso video Quando è stato Insomma stava male In casa Evan Perché doveva andare in bagno Era molto a disagio Quando I sei valieni Sono molto a disagio O comunque Emozioni Elevate Cioè con L'aggettivo Molto Appare un'aura Attorno a loro Colorata In base all'emozione E voi l'avete scoperto Subito E adesso È stata la prova Schiacciante Che si nota Da subito Che non è normale Evan Evan è un alieno Ed Abby invece Di lei non abbiamo ancora Notato nulla Eppure sono fratello E sorella È un alieno Ragazzi Non l'ha ancora capito Mi sa Perché non ha avuto nessun Nessun Segno Di stupore Jake Però Direi che possiamo iniziare A cenare Perché guardate che ore sono Ordina per il tavolo A cena fuori Che delizia Eh sì ragazzi Questo ragazzaccio Ragazzaccio È Un alieno Vabbè Va benissimo così Oddio Si è aperto il menu di colpo Qua cosa abbiamo di bevande Latte Acqua Succo d'arancia Caffè Vischio amaro Dobbiamo scegliere per tutti E paghiamo noi per tutti Ma va bene Tanto non dovrebbe essere Molto costoso Questo posto Molto economico Dovrebbe essere Ci consigliano Latte Però Allora per Abby Vedrei Oddio Com'è qua che funziona Ok Già mi dimenticavo come funzionava Per Abby un bel caffè Un succo d'arancia Per Evan E per noi Un Un altro succo d'arancia Ma si Ma si Va benissimo Antipassi No Abbiamo le portate principali Che sono quelle che ci interessano E il dessert Che Non so ragazzi Mi piacerebbe Ma Ma ditemi voi Come si fa Poverissime La loro dieta Deve essere molto Stretta Poveri Che buono Bianco e nero Il biscotto Il chili Pizza margherita E margherita Oddio Cosa sto dicendo Con pancetta canadese Al formaggio Una bella pizza Ci potremmo mangiare Anche alla diavola Ma si Mangiamoci tutti quanti Una bella pizza Facciamo che La pancetta canadese Se la prende Abby Al formaggio Noi Ed Evan Si prende quella Alla diavola Ti va bene Si abbiamo scelto tutto Le bevande pure Direi che Viene 42 simone Va bene Dai Non siamo Tanto in una buona Situazione economica Però direi che Va bene così Conferma Ok Mi è apparso di colpo Anche Evan Guardate quanto È occupato Questo ristorante Nonostante sia Comunque così Piccolo e carino Mi piace molto Dovete sapere Che io Ho un debole Per le cose Molto caserecce Non è casereccio Però Ha un che di familiare Un'altra vostra sim Aurora Peronacci La figlia di Di Gaia Ok Tra poco arriverà Il piatto Penso Continuiamo a parlare Anche con Abby I suoi capelli Mi ostacolano La vista Anche se è bella La vista dall'altra parte In cui si vedono Tutti quanti Può raccontare Barzolette sulla moda Le mutandine Giusto Va bene Jake Eh sì Già voi Mi state Mi state facendo Dei film Mentali Diciamo Sul futuro Di Jake E voi vi immaginate Dei Degli intrecci Diciamo Con questi sim Intrecci Delle relazioni Tra Tra questo gruppetto Di sim Chissà se avete ragione Oppure no Che è successo Perché ha avuto Quella reazione Con questa sim Alice Spencer Kim Non si sa Non è anche lei Un alieno Da quel che so Comunque sì ragazzi Avete scoperto Che il piccolo Il piccolo Perché mi viene da dire Il piccolo Avete scoperto Che Evan È un alieno E ci mangiamo Una bella pizza Che bella pizzata Tutti insieme Che bel gruppetto Di amici Mi piace molto Ecco quanto ordinato Buon appetito Grazie Deve essere molto buona Anzi normale La qualità Ma va benissimo Per il posto Non ci si può aspettare Che sta cosa Da un fast food No Stanno mangiando C'è Gaia La famiglia Spencer Kim E poi Nessun altro Perché si sta facendo Molto tardi Eh sì Tutti i vostri sim Sembrano aver trovato Un posto di lavoro Mi piace molto Un sacco Mi piace vedere I vostri sim Che eseguono Questi lavori PNG E non vedo l'ora Di frequentare Delle carriere attive Di al lavoro Così come Colleghi Vedremo i vostri sim All'opera Mi piace un sacco Questo ragazzi Mi piace tutta la popolazione Di sim Che si sta creando Con i vostri sim E i nostri E i miei Che sono anche vostri Perché è una serie Condivisa ovviamente Sì comunque Le relazioni Sono davvero elevate Stanno andando Un attimo in bagno Eh sì Vedremo come Procederanno Nelle prossime Puntate Nei prossimi episodi Le loro relazioni Amichevoli Oppure no Chissà se avete ragione Ragazzi Chissà 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 Ci siamo un sacco Divertiti comunque Oggi Non abbiamo mangiato Ai chioschi Però un'altra volta C'è tutto il tempo Del mondo Da passare con questi sim Lei è molto particolare Con questi abiti Di vampiri Il game pack Chissà se nasconde qualcosa Non è detto Ragazzi Uno può vestirsi Come vuole No Poi ovviamente L'apparenza È quella che è Stiamo un sacco Divertendo Sto dando solamente Barzellette Praticamente Molto giocoso Attenti perché Non so se lo sapete Ragazzi Ma in The Sims 4 Ci sono delle morti Causate dall'eccessiva Emozione Tra cui L'essere Troppo giocoso Troppo arrabbiato Troppo affaticato Una serie di cose Molto interessante Anche troppo Imbarazzato Penso che sia anche Abbastanza realistica Come cosa È molto giocoso E cosa Cosa le è apparsa Laura Del colore Dell'emozione Eh sì Avete tante conferme Lui è Un alieno E avete anche scoperto Che Li ho creati io Chissà per quale Oscuro motivo Li ho creati io Questi due Fratelli E sorella Spero vi piacciono Molti hanno fatto Dei complimenti Per la bellezza Di Abby Ed Evan Sì Sono molto belli Eh sì Oddio Barzelletta Per flertare No Sono andato sul romantico Senza volerlo Oppure Era una cosa inconscia Boh Non si sa Qua chi c'è Diana Williams Che eleganza Diana Si stanno andando in bagno Ma io direi di andare a casa Ragazzi Che ne dite Ma sì Guardate Diana In tutto il suo splendore Che eleganza Che charme Si può dire charme Non lo so ragazzi Non so Questi termini Alla moda Ok Basta dire cose assurde Perché Ne dici già abbastanza Marco Vabbè Evan e Debbie Ce ne andiamo Abbiamo scoperto Un Segreto Molto nascosto Che doveva essere nascosto L'avete scoperto subito Non è possibile Vabbè Buonanotte Evan e Debbie Ci vedremo Presto Insomma Magari ogni giorno Vedremo di fare una bella uscita Tutti assieme Se riusciamo Ed eccoci qua ragazzi No Ma basta Io mi dimentico sempre di pagare Ma non è possibile Sarebbe più semplice Se ci facessero pagare All'inizio Invece no Purtroppo Si paga dopo Ma penso che sia così anche nella realtà In Nella maggior parte dei posti Boh Non saprei Sinceramente Nei fast food Non mi pare Però Boh Chi lo sa Eh si andiamo a dormire ragazzi In questo episodio abbiamo scoperto Qualcosa di molto sconcertante Cioè Non si sa Se è una cosa buona Cattiva Gli alieni Hanno diverse reputazioni No Potrebbe essere un alieno buono Venuto da Sixam Oppure un alieno Con brutte intenzioni Ma cosa avete lasciato qua Tira su un attimo sta roba Se no diventa Variato tutto Jake Forza Hanno lasciato tutto qua Ma dai Un po' di educazione Almeno lo mettevate nel frigo No Non l'hanno fatto Forza Metti via tutto Jake E poi dormi Tranquillamente Abbiamo scoperto Questo oscuro motivo Oscuro motivo Questo oscura Oscuro segreto Oscuro Non è neanche oscuro I vampiri sono più oscuri Forse Ah beh Abbiamo scoperto Questo segreto enorme Del Di Evan E non so Se voi sospettate qualcosa Di Abby Oppure no Sarà pure lei un'aliena Oppure no Essendo sorella E fratello Dovrebbero avere Questo legame Genetico No Però Boh Vedremo E si nulla ragazzi Direi che per questo episodio Possiamo fermarci qua Voi come sempre Mi raccomando Commentate ragazzi Quindi se il video vi è piaciuto Cliccate mi piace E iscrivetevi al canale Ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti E Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.